Nei suoi video si vede spesso che appena entra all'interno dei negozi si drae sul pavimento per essere fascinato. Ha iniziato per caso quando aveva un anno, poi spesso avevamo forse per stanchezza o pigrizia. Ma abbiamo capito che lo fa come se volesse attirare senza delle altre persone. Intende a fare sciocchi. La scudicola è quella che mi sono diretta, ma è una persona che si diverte, soprattutto i bambini e il suo atteggiamento, ma siamo molto contenti di questo. Appena rientriamo a casa, è veramente contento che so che la scudicola è pure che mi è impazzito dalla ricetta. Per tenerci in forma facciamo degli allenamenti in casa. Sparkey ci aiuta a rendere meno faticosi gli esercizi con la sua presenza. La sua passione sono le pressioni e ne approfitta per avere tanti baci, a volte però a non fare gli scherzi per giocare in una crescente gente. Siamo seguita da pensione, per gli stari sviluppati in casa, è molto affezionata. È incredibile come la compagnia di Sparkey ci aiuti a livello mentale all'isolamento di tutta la coronavirus. che impedisce proprio alle persone di avvicinarsi e proprio lui che possiamo abbracciare, stringerlo, è fondamentale per superare questo triste periodo. Con il suo amore incondizionato, il reno delle giornate è meno difficile. E a volte anche particolare. Sparkey! Quando stiamo insieme a volte ci fa capire con i suoi occhi dolci e che è il cane più felice di questo mondo. Il nostro compagno fedele, il nostro amico e sappiamo che noi ci vediamo. Il suo attimento è a fronte della vita, la sua miglioranza ci fa essere nel nostro organico, e invece questo che viene diventata. Like, comment, and subscribe.